Ben trovati alla seconda edizione del nostro telegiornale di Teledeon, insieme a Ripercorreremo insieme le principali notizie che hanno contraddistinto questa settimana. L'appalto per il nuovo ospedale di Andrea sarà fatto entro settembre per recuperare il tempo perduto e quanto emerso dai lavori della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Puglia. Sentiamo. Entro il prossimo mese di settembre ci sarà l'appalto per il nuovo ospedale di Andrea e quanto emerso nel corso dei lavori della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale Pugliese, dove la direttrice generale della ASLBAT Tiziana Di Matteo ha informato che il piano clinico gestionale è stato rivisto dopo le modifiche che hanno comportato il contenimento dei costi. La direttrice generale ha ribadito che la nuova struttura ospedaliera sarà di secondo livello e che sarà dotata di 400 posti letto, mentre saranno ridotte a 12 le sale operatorie rispetto alle 18 iniziali. A diminuire sono anche le sale parto che passano da 6 a 5, in crescita invece il numero dei mammografi previsti come dotazione. Il nuovo piano clinico gestionale è stato trasmesso ai progettisti e l'azienda sanitaria conta di recuperare il tempo perso procedendo in parallelo con la progettazione e le verifiche che dovranno essere effettuate dall'ASSET, l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio. Tra dieci giorni si dovrebbe procedere con la formalizzazione per la sottoscrizione del contratto di progettazione, da cui decorreranno tre mesi per chiudere la verifica da parte di ASET per il 75% dell'opera e nei successivi 15 giorni si concluderà con la verifica del restante 25% dell'opera. E l'ufficio relazioni con il pubblico dell'ASLBT diventa digitale. Il portale web permette al cittadino di entrare in contatto direttamente con la ASL. Nel prossimo servizio le funzionalità presentate durante una conferenza stampa. Un servizio utile, risolutivo e pratico è attivo da oggi il portale URP digitale, ovvero l'ufficio relazioni con il pubblico dell'ASLBT. È la prima esperienza in Regione Puglia e permette al cittadino di entrare immediatamente in contatto con l'ASLBT, uno strumento di miglioramento della qualità della conversazione che permette di accorciare le distanze con i cittadini. Proponiamo un portale sempre presente che potrà dare delle risposte immediate al cittadino, per esempio attraverso l'assistente virtuale. Il cittadino avrà la possibilità di dialogare con l'assistente, di ricevere informazioni laddove non dovesse essere soddisfatto, può naturalmente mettersi in contatto direttamente con l'operatore. Naturalmente questa è una novità importante anche lato aziendale perché questo ci consente di leggere in maniera chiara, in maniera completa tutte le richieste di informazioni da parte dei cittadini e quindi di avere una mole importante di informazioni volendo anche per riorganizzare i servizi. Sempre attivo l'assistente virtuale che fornisce assistenza ai cittadini. È un classico caso in cui l'intelligenza artificiale viene in soccorso della sanità e non rappresenta alcuna minaccia. Dopo l'accesso al portale urp.aslbat.it, in basso a destra il paziente troverà la sua chat sempre attiva e potrà per esempio domandare quali sono gli effetti collaterali di un determinato farmaco e laddove la risposta non fosse esaustiva è possibile inviare una segnalazione. Questo progetto quindi si inserisce in un ambito più complessivo di digitalizzazione in cui grazie a questo noi abbiamo un panorama completo di multicanalità nell'approccio con i cittadini perché l'URP digitale poi si aggiunge ai canali un po' più tradizionali quali il portale web, quali le mail, quali le PEC e per i cittadini che sono un po' meno digitalizzati manteniamo sempre lo sportello fisico che può dare sempre un'assistenza e delle informazioni ai cittadini. E restiamo sul tema della sanità all'ospedale Bonomo di Andrea. È stato presentato il nuovo angiografo digitale finanziato con i fondi del PNRR. I dettagli nel prossimo servizio. Un'apparecchiatura digitale di ultima generazione che grazie all'integrazione della guida 3D alle procedure di neuroradiologia e radiologia interventistica permetterà di eseguire interventi con la massima precisione e sicurezza con uso di dosi di radiazioni notevolmente più basse a beneficio di pazienti e operatori. È il nuovo angiografo digitale presentato al Bonomo di Andrea. Un importante risultato che fa parte di quello che è il processo di ristrutturazione tecnologica che ha interessato l'intero territorio dell'ASLBAT grazie ai fondi del PNRR. Questa apparecchiatura digitale di ultimissima generazione è molto più precisa e sicura rispetto alla precedente, quindi permetterà grazie alla guida 3D di effettuare gli interventi in modo molto più sicuro, più rapido e più preciso. La piattaforma interventistica è progettata per ridurre i tempi di intervento, effettuare due task contemporaneamente in sale ad esame e in sala controllo senza interrompersi a vicenda. L'angiografo che la collettività parte stamattina si aggiunge alle altre recenti acquisizioni. Ad inizio anno abbiamo avuto l'installazione della seconda TAC altamente performante grazie all'intelligenza artificiale. C'è stata anche l'installazione di un sistema radiologico polifunzionale dotato di dei più ultimi hardware e software utili per la diagnostica. A fine anno avremo anche il cambio della risonanza magnetica, quindi un applauso alla direzione generale e all'ingegneria clinica per questo importante rinnovo del parco tecnologico della radiologia. L'angiografia interviene in urgenza in ambito neuroradiologico trattando con velocità l'ictus sia ischemico che emorragico. Questo apparecchio ci consente di chiudere emorragie o di riaprire arterie chiuse in maniera estremamente rapida e soprattutto meno invasiva per il paziente perché evitiamo un intervento chirurgico ma attraverso l'acute riusciamo a raggiungere quelle che sono strutture altamente sensibili. E voltiamo pagina, ci spostiamo a Canosa di Puglia dove è stato ospitato un convegno in cui si è discusso di mafie e di quali strategie adottare per contrastarle e scegliere da che parte stare è il primo passo. Vediamo. Un incontro per spiegare ai più giovani da che parte stare è un convegno per dire che il verbo più importante da declinare nella loro esistenza è scegliere, scegliere cosa è giusto e cosa è sbagliato. A Canosa di Puglia nel Norbarese un teatro è stato trasformato in uno spazio di confronto tra studenti e istituzioni che chiedono collaborazione. Noi chiediamo partecipazione, io non ho nulla da spiegare a loro che loro già non sappiano. Quello che devono comprendere è da che parte stare e noi cerchiamo di insegnarlo, questo sì con il nostro esempio, non con le nostre parole, quello ce lo proviamo a fare ogni giorno. Conoscere le regole, rispettarle, farle rispettare sono le direttrici su cui bisogna muovere i percorsi di legalità. Serve però uno sforzo sinergico tra scuola, famiglia e istituzioni per evitare le scorciatoie e raggiungere risultati di benessere economico attraverso la legalità. Viviamo in una società evoluta nella quale soprattutto in questa provincia si fa tanto per cercare di essere vicini ai giovani, può essere un insegnante, un genitore, possono essere i poliziotti, c'è tanto personale che è disposto ad ascoltare questi giovani. Violenza sulle donne e il nuovo codice rosso, sono stati questi temi affrontati in un incontro organizzato ad Andrea dall'Associazione Avvocati Andriesi. Ascoltiamo. Violenza sulle donne e il nuovo codice rosso, quali novità? Le novità sono parecchie, vanno lette insieme a tutte le riforme che sono intervenute dal 2019 in poi e si è lavorato molto sull'attività di prevenzione, cioè sul tentativo di evitare che i reati vengano commessi e credo che sia l'obiettivo più importante centrato da questa legge. Poi naturalmente ci sono altri interventi in tema di misure cautelari, si è provato ad accelerare il processo di adozione della misura cautelare nei confronti dell'aggressore, chiamiamolo così. Devo dire che molti sono i punti di forza della legge, ha anche dei punti di debolezza nel senso che come tutte le leggi nate un po' sotto l'effetto dell'emergenza e siamo comunque in periodo emergenziale, portano un po' di eccesso, come dire, di sensibilità e il legislatore ha bisogno di essere lucido, di giocare a bocce ferme e questo in questa legge non è avvenuto, però il momento è drammatico e quindi non è possibile avere una legislazione perfetta. Sicuramente le tutele sono aumentate e abbiamo una legislazione tra le più evolute. Naturalmente combattere il fenomeno vuol dire agire anche sul piano sociale, della cultura. Che cosa è cambiato da quando è stato introdotto il codice rosso ad oggi? C'è sempre una maggiore sensibilità, sempre di più rispetto a questo tipo di reati e sta anche aumentando la consapevolezza delle donne e quindi aumentando le denunce, però è chiaro che tanto cammino è ancora da fare insomma al riguardo. Il numero dei reati è ridimensionato? No, il numero di reati aumenta con l'aumentare delle denunce, ma non è corretto dire che il fenomeno sia in espansione. Probabilmente è l'emersione del fenomeno che già esisteva e magari nelle stesse proporzioni che vediamo oggi. Qual è il ruolo dell'avvocato nella prevenzione, nella tutela della vittima? Quello di agevolare l'intervento nel caso di vittima di reato, di violenza di genere, agevolare l'intervento delle forze dell'ordine, attraverso le denunce, attraverso le istanze di ammonimento rivolte al questore, attraverso le richieste di applicazione di misure cautelari, attraverso le richieste di applicazione di misure di prevenzione, che oggi è possibile che vengano applicate anche nei confronti di soggetti solo indiziati di reato. Voltiamo pagina, parliamo di ambiente, un protocollo d'intesa a difesa delle dune costiere e il progetto promosso dal circolo di Lega Ambiente Barletta al fine di assicurare una corretta gestione dei cordoni dunari presenti sul lungomare Pietro Mennea. L'obiettivo è salvaguardare anche il fratino, un piccolo volatile a rischio estinzione. Vediamo. Veri ecosistemi preziosi che svolgono un ruolo fondamentale nella protezione delle coste contro l'erosione, nella promozione della biodiversità. Parliamo dei cordoni dunari. Il circolo Lega Ambiente di Barletta e la Società Italiana di Geologia Ambientale hanno siglato un protocollo con l'amministrazione comunale proprio per il ripristino e la rinaturalizzazione delle dune naturali. Tali formazioni sono presenti in tantissime mete turistiche e le ampie spiagge della città della Disfida ben si prestano al medesimo progetto che coinvolgerà in prima battuta una porzione della spiaggia oltre il Lido Massaua. Il 30% della profondità della spiaggia partendo dalla strada verrà delimitato e non sarà antropizzato, quindi saranno solamente delle passerelle per permettere ai bagnanti di arrivare in spiaggia e tutta questa aria sarà lasciata rinaturalizzare. Questo succede che con questo processo naturale le radici stesse innanzitutto rallentano l'erosione costiera e poi la vegetazione pioniera, la prima che cresce, non fa altro, lo possiamo vedere in quest'area, che trattenere la spiaggia. Quindi a livello aerobico non c'è più la dispersione di sabbia durante l'inverno, durante giornate ventose di Maestralo, di Tramontana. Le attività di sensibilizzazione da parte delle associazioni previste anche nel protocollo d'intesa sono già iniziate sul tratto del litorale. Qui soprattutto le scolaresche restano affascinate dalla scoperta della presenza del fratino, un piccolo trampoliere che predilige coste basse e sabbiose. Quest'anno abbiamo, al momento abbiamo già tutelato sei nidi, uno è alle mie spalle e ha un'importanza notevole per due motivi. Primo ovviamente quello per il motivo per cui è a rischio estinzione, seconda cosa perché il fratino non edifica in tutta Italia ma sceglie solo le spiagge, quelle che li tiene più idone e quindi la sua presenza è sintomo di, sinonimo di salubrità della spiaggia. Il documento prevede di fornire elementi di conoscenza per gli operatori addetti alle operazioni di pulizia delle spiagge e per i bagnanti affinché acquisiscano consapevolezza del valore delle aree. Per i bagnanti innanzitutto è che tengano i loro amici a quattro zampi a guinzaglio perché in questo periodo di schiusa delle uova abbiamo un sacco di piccoli polli in giro e non è difficile pensare che dovesse un cane avvicinarsi, insomma, non sarebbe bello per i piccoli. Atrani due giorni di confronto tra produttori, esperti assaggiatori e docenti universitari per parlare della favolosa, la cultivar che ha contribuito a salvare le piante di olivo salentine, quelle aggredite dalla xylella. Le interviste. Qual è l'olivicoltura del futuro? L'olivicoltura del futuro è quella che ha una elevata sostenibilità agronomica, economica ed ambientale. Agronomica vuol dire che permette di produrre risparmiando le energie non solo economiche ma anche dei mezzi tecnici. Il risultato della sostenibilità economica è che dà reddito e quindi si riescono a contenere i costi di produzione grazie alla meccanizzazione e alla pedonalizzazione che sono i binari che sui quali corre la moderna frutticoltura. Ma per pedonalizzare e meccanizzare c'è bisogno di ridurre la dimensione degli alberi e avere alberi di piccole dimensioni permette anche di ottenere la sostenibilità economica ambientale che vuol dire avere alte prestazioni ambientali come per esempio l'impronta dell'acqua. È stato dimostrato infatti che i nuovi oliveti sono quelli che consumano meno acqua di quelli tradizionali così come i nuovi oliveti sono quelli che riescono a catturare più anidride carbonica avendo un impatto più basso di carbon footprint. Che cosa fare perché il mercato possa svilupparla? Innanzitutto serve la cultura dell'olio, la cultura proprio del popolo perché non è possibile che ancora oggi si scambi i pregi per difetti e i difetti per pregi dell'olio. Quindi questa è una delle azioni importanti perché è giusto che il consumatore sia informato quando deve scegliere il tipo di olio dallo scaffale. Questo è sicuramente il primo, come dire, il motore immobile della nuova olivicoltura. La cultivar favolosa da un lato ha permesso di salvare un territorio, ha dato una speranza al territorio e dall'altro lato certamente rappresenta l'innovazione per il futuro. Ha dato una prospettiva agli imprenditori che volevano iniziare ad avviare un percorso di costruzione del Salento ma al tempo stesso ha creato quell'innovazione di prodotto che permette di allargare la gamma degli oli italiani offerti al grande consumo italiano e mondiale. Ha una caratteristica particolare che è una varietà che anticipa la raccolta e quindi si presta benissimo per il novello. È uno dei tanti colori del grande acquarello italiano che dobbiamo sfruttare fino in fondo per riconquistare i spazi di mercato che abbiamo perso negli ultimi anni. Come fare? Facciamo attraverso la moltiplicazione dell'esperienza. L'ovicoltore è un problema che le esperienze si fanno negli anni. Abbiamo voluto chiamare intorno a un tavolo tecnici e operatori che da anni si occupano di queste varietà per capire come mettere a sistema l'esperienza e tutti insieme fare percorsi più veloci per allargare la produzione con queste nuove varietà di maggior prodotto italiano. Ci spostiamo insieme a Molfetta dove si è svolto un incontro per riflettere sul tema dell'intelligenza artificiale, i rischi e le opportunità. L'iniziativa è promossa dall'ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro in collaborazione con il progetto Policoro. Vediamo. Riflettori accesi sul tema del lavoro in relazione alle nuove sfide e possibilità aperte dalla tecnologia e dall'intelligenza artificiale. Una particolare attenzione ai giovani per offrire loro prospettive future è riflettere sui rischi e le opportunità che queste comportano. A discuterne nella sala azzurra della parrocchia San Giuseppe di Molfetta l'ingegner Corrado Laforgia, vicepresidente federmeccanica. L'intelligenza artificiale è uno dei temi più di attualità, è una tecnologia, anzi una scienza che sta entrando potentemente nelle nostre vite. Invece di essere a servizio dell'uomo possono essere in qualche caso sostitutivi dell'uomo o addirittura creare dei rischi dell'uomo nel cedere dei dati, nell'entrare nella privacy dell'uomo stesso e quindi bisogna stare molto attenti nel dare i dati, nel trasferire i dati e nell'utilizzo veramente consapevole dell'intelligenza artificiale. Nello specifico noi cosa possiamo fare? Qual è il giusto comportamento da adottare? Studiare, essere consapevoli, non fermarsi in superficie, purtroppo questo è un atteggiamento assai diffuso, non fermarsi alle prime righe degli articoli, dei libri, ma andare in profondità, ascoltare, sentire gli esperti e in generale evitare di trasferire dati, evitare di non dare al sistema dati quando questo non è assolutamente necessario. L'incontro rientra nel percorso traiettorie di partecipazione, in preparazione alla cinquantesima settimana sociale dei cattolici in Italia. Quattro incontri tematici promossi dall'ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro in collaborazione con Progetto Policoro. La partecipazione è parsa attraverso l'energia e quindi le comunità energetiche, che è stato il tema del primo incontro, poi passa attraverso il lavoro, che è il tema di questo incontro e in particolare noi abbiamo pensato ai più giovani, abbiamo pensato come sarà il lavoro fra 30 anni. e quindi il lavoro veniva bene, il lavoro di fronte alla sfida dell'intelligenza artificiale. E si concluderà il 23 di maggio con un incontro sull'Europa, sull'idea dell'Europa come Europa di pace e dei popoli. L'amore e il rapporto genitori-figli presso l'auditorium Madonna della Rosa di Molfetta si è tenuto un incontro dibattito con l'autore Giancarlo Visitilli. Vediamo. Formare alla vita gli adolescenti, i figli cercando di scavare dentro i loro vissuti e le loro emozioni, senza la presunzione di proporre guarigioni o terapie, ma solo cercando di far acquisire la consapevolezza del loro essere, di dare un nome a ciò che vivono i ragazzi. Offrire dunque una strada alternativa al loro modo di agire e di vedere ciò che accade intorno. Attraverso una chiacchierata, un momento di confronto con dibattito finale aperto al pubblico adolescenziale e a quello adulto per raccontare il rapporto fra genitori e figli. Penso che in ogni caso si stiano impegnando tanto per cercare di capire i nostri bisogni che con gli anni sono cambiati e quindi anche se ci dovessero essere delle incomprensioni, loro sono sempre disponibili a mettersi al nostro livello per cercare di capire quali sono i problemi che oggi caratterizzano le nostre vite. Ci siamo messi in confronto con gli adulti e quindi su qual è il rapporto oggi che c'è tra genitori e figli. Io penso che ci sia oggi il tema dell'amore e di questo rapporto ha delle nuove sfaccettature, delle nuove caratteristiche, emerge in maniera nuova e abbiamo bisogno di persone che siano capaci di agganciarle queste cose nuove, queste parole nuove. E proprio per questo abbiamo chiamato un comunicatore, uno che è sul campo, che si chiama appunto il professor Vissitilli, che ci aiuta a parlare su questo, su queste nuove prospettive che hanno i loro pro e i loro contro e che hanno bisogno però di essere intercettate per poter far passare anche il messaggio di Cristo oggi, nelle nuove generazioni. Il team di animatori della parrocchia Madonna della Rosa di Molfetta ha incontrato il professor Giancarlo Vissitilli, docente di lettere e scrittore. In termini educativi oggi si fa fatica a riallacciare un rapporto educativo tra adulti e giovani, ma non perché i giovani siano diversi rispetto ai nostri tempi. Si parlano linguaggi che sono sempre più diversi. Una delle problematiche peggiori che possa esistere nel nostro paese in questo momento è che chi ha il potere di, per esempio, il ministro della pubblica istruzione parla sempre di punizioni, di adempimenti che hanno a che fare con le regole. Noi dobbiamo educare nella scuola, non dobbiamo punire. E restiamo a Molfetta, sarà visitabile fino al prossimo 8 settembre al Museo Diocesano la mostra dedicata all'artista molfettese Vito Zaza, a dieci anni dalla sua morte. Ascoltiamo. Opere inedite tra sculture in terracotta e disegni che raccontano i drammi della maternità e l'immersione in un labirinto che manifesta e nasconde la trasformazione avvenuta negli ultimi 15 anni nella vita dello scultore Vito Zaza. A seguito, infatti, della tragica scomparsa delle due figlie, Mare e Diana, si era ritirato presso la trappa delle Tre Fontane a Roma, in isolamento spirituale. La sala museale di quei luoghi divenne per l'artista molfettese punto di arrivo di un duplice movimento, il cuore della comunità monastica e l'anima della società di oggi. Vito Zaza esprime un forte impegno sociale nel suo lavoro artistico. Il soggetto è dedicato a donne, esuli, profughe, vittime di guerra ma anche di carestia e tutte con in pancia un bambino che sta per nascere o madri che vivono in stato d'abbandono e non possono provvedere alla vita delle creature appena nate. Vito Zaza, dal silenzio al mistero, viaggio nelle maternità violate, è il titolo della mostra inaugurata nei nuovi ambienti del seminario vescovile della diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi, visitabile fino al prossimo 8 settembre. Un omaggio all'artista molfettese a dieci anni dalla sua scomparsa. Il silenzio perché quella è la voce di Dio, ma anche un progetto umanitario. Il dover dar voce a chi non ce l'ha, a chi sta in silenzio ma urla di dolore. Era desiderata e voluta da Vito fortemente perché è una mostra diversa dalle altre, perché è portatrice di un messaggio umanitario al quale lui ha voluto dare voce a chi non ha voce. E si è tanto raccomandato affinché si realizzasse questa sua idea. Ed è tutto per questa seconda edizione della Domenica. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata in compagnia dei nostri programmi televisivi. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata in compagnia dei nostri programmi televisivi.